oh no! fanno un po' le cose che stai a fare? che stai a fare? sei da una zampata che stai a fare? stai a fare che? e dopo? e dopo puoi piammare ancora nooo ragazzi vi dico una cosa che la patata sempre sia lodata viva la patata ho iniziato Sanremo ti piace? assenti dammi questa tavoletta che adesso parlo io che? questo è un nipote speciale non esiste da una parte della terra si un nipote così questo è veramente un grande nipote e tu sei un grande nonno eh eh sì ma grazie ma certo questo cincillato che mancava tutte le soddisfazioni oh ma questo cincillato il cincillato ce lo fa la parte sua non si è sprecata oh e lei la chi tocca? da te adesso io ritornando su Sanremo ti piace? no perchè? perchè non mi piace perchè cantano che non si capisce niente non cantano le canzoni fanno il coso che parlo? ma parlano non si capisce niente e quindi? e quindi una cantata per loro io a me mi piace mi piace non mi piace oh